Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, salutato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lauda e gloria a Cristo, Ave Maria e Dio vi benedica. Continuiamo, su Aldo Maria Valle, sul suo sito, ovviamente, abbiamo trovato un altro articolo che riguarda l'Istituto Giovanni Paolo II. Vi ricordate che abbiamo fatto una puntata, il riferimento che sembrerebbe, e anzi, stanno esautorando, quindi stanno eliminando tutti i vecchi professori da quando era stato istituito l'Istituto Giovanni Paolo, San Giovanni Paolo II, proprio per diventate sacerdoti, eccetera, eccetera. C'è un forte appello da parte degli studenti, che adesso andremo proprio a leggere dal sito, ovviamente, di Aldo Maria Valle, e dice questo. Reverendo Monsignor Sequeri, e anche a Vincenzo Paglia, che è anche lui, il Monsignor Paglia, che ha cercato, ecco, che stanno modificando questo istituto, dice questo. Nelle ultime ore, molti studenti ci hanno espresso la loro preoccupazione per l'improvvisa pubblicazione dei nuovi statuti e il nuovo ordinamento degli studi del nostro istituto. Insieme alla triste notizia del licenziamento dei due professori, le cui cattedre occupano un ruolo centrale della formazione offerta dall'Istituto. Vista la crescente preoccupazione e per adempiere al nostro dovere di rappresentante, ci rivolgiamo a lei come preside dell'Istituto, e quindi garante anche della continuità degli studi e dei diritti degli studenti del nostro istituto. Tristemente, su commenti del modo in cui siamo stati avvertiti dai cambiamenti cruciali che ci riguardano direttamente come studenti, vorremmo iniziare esprimendo la nostra più grande preoccupazione, la perdita della linea formativa, e quindi dell'identità del Pontificio Istituto Teologico San Giovanni Paolo II, che in ogni caso è stato il motivo principale per cui la maggior parte degli studenti e dei loro superiori ha scelto questo istituto per la loro formazione. Sebbene lo stesso Papa Francesco esprima nel suo moto proprio, Somma Familiare Cura, già nel primo articolo 1, il suo desiderio di continuare con l'ispirazione originale di Giovanni Paolo II, cioè la sua speciale proposta di insegnamento nella Chiesa, restiamo sorpresi dal fatto che nel nuovo ordinamento degli studi non si parla, né si trova un corso sulla teologia del corpo e sull'insegnamento di Giovanni Paolo II, piuttosto che tutto sembra essere ridotto al corso introduttivo, la communio personarum. Sorgono dunque le seguenti domande. Come verrà specificatamente salvaguardata questa identità che è il centro degli insegnamenti di Giovanni Paolo II? Come evitare che il dialogo con altre discipline, che tra l'altro già si trova nel vecchio piano di studio, diventi una mera sovrapposizione di divisioni diverse sullo stesso argomento senza coesione interna tipico degli studi interdisciplinari nella maggior parte delle università secolari? Perché continuare a studiare all'interno dell'istituto Giovanni Paolo II se non sembra proporre nulla di nuovo rispetto a ciò che possiamo trovare tra gli altri curricula delle università secolari e tante volte anche in modi più attraenti ed efficaci? D'altra parte, Giovanni Paolo II, nel suo moto proprio magno matrimoni in sacramento, un paragrafo 8, ha espresso la sua intenzione che l'istituto fosse affidato alla speciale patrocinio della Beata Maria Vergine di Fatima. Per il resto conosciamo bene l'intima relazione che il nostro istituto ha sempre avuto con questa invocazione mariana dopo l'attacco del 13 maggio del 1981. Ecco perché crediamo che sia cruciale che questo istituto, rifondato da Papa Francesco al fine di migliorarlo e anche rafforzarlo, sia consagrato alla Madonna di Fatima. Al centro della nostra preoccupazione sull'identità dell'istituto si trova la soppressione della cattedra di teologia morale fondamentale. Sappiamo quanto importante sia stato per San Giovanni Paolo II lo studio dell'azione umana, al punto che ha affidato questa cattedra proprio al primo preside, il Cardinal Carro Cafarra. Inoltre, l'attività di questa cattedra speciale, specie nell'area di ricerca stabilita dal Cardinal Scola, è stata lodata direttamente da Papa Benedetto XVI. Per questo risulta incomprensibile la motivazione ufficialmente fornita per giustificare la soppressione di questa cattedra, cioè che essa appartiene al primo ciclo degli studi teologici. Se è così, perché allora continuare ad esserci una cattedra di antropologia teologica e c'è addirittura una nuova di teologia fondamentale? Nei corsi di Monsignor Melina non si trattava infatti solo dei principi generali della morale fondamentale, ma essi erano intimamente collegati alla morale coniugale della famiglia, come abbiamo potuto sperimentare nell'insegnamento da lui ricevuto. Inoltre, perché questo impedimento appara all'improvviso così insommortabile se questa è una cattedra in vigore da 38 anni? In questo senso, come studenti, vogliamo sottolineare l'importanza che questa cattedra ha avuto per noi. Senza dubbio, essa è una delle più grandi novità e ricchezze che fino ad oggi l'Istituto ha offerto alla Chiesa e alla società. In un mondo in cui tutto sembra essere diviso tra una visione relativistica oppure legalistica dell'etica, la visione insegnata all'Istituto ci consente di comprendere la moralità come un percorso di pienezza e di senso per l'essere umano, dove l'uomo è responsabile delle sue azioni, ma allo stesso tempo sempre conta sull'aiuto della grazia e della virtù che lo aiutano a vivere una buona vita. Questa concezione della moralità, in cui la santità è al centro, ci permette di rispondere con speranza e tanti casi difficili all'interno di matrimoni e famiglie. Per quanto riguarda il licenziamento inaspettato dei due professori dell'Istituto, Monsignor Livio Melina e padre Iose Noriega, ci preoccupano e ci allarmano diverse cose. Il modo improvviso e incomprensibile per noi in cui sono stati licenziati, senza reali ragioni, due professori che sono di gran prestigio non solo all'interno dell'Istituto, ma che rappresentano un punto di riferimento internazionale, come dimostrato dalla lunga carriera accademica. Nel caso di particolare del professor Melina, ciò significa non riconoscere alcun suo merito dopo 32 anni di insegnamento, 28 come professore stabile e anni come preside del nostro Istituto che sotto la guida ha visto un'espansione in tutto il mondo. Il fatto che con il licenziamento si indebolisca uno dei pilastri formativi dell'Istituto, come lo sono la morale fondamentale e l'autologia morale speciale. Il fatto che due mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, 2019-2020, con un piano di studio reso noto all'Istituto stesso, a giugno scorso e al quale molti studenti si sono registrati, ci viene notificato l'immediato l'incenziamento del Monsignor Melina e del professor Noriega, considerando che ciascuno di loro offriva ogni anno un corso obbligatorio, uno opzionale e due seminari di studio, oltre a dirigere tante tesi tuttora in corso. Inoltre il professor Noriega dirige con grande successo e riconoscimento la rivista istituzionale Antrepotes e i progetti editoriali dell'Istituto. Non aver considerato la grande stima di cui godono entrambi i professori tra gli studenti, come evidenziato nelle schede di valutazione docente, il numero di studenti che ogni anno li scelgono come relatori della loro tese. Per tutte queste riflessioni, fino a risposte, e dopo aver esaminato il documento pubblicato ieri, 23 luglio, sul sito web dell'Istituto, le chiediamo una risposta chiara sui seguenti argomenti. Cosa accadrà alle altre offerte accademiche del nostro Istituto, come il ciclo speciale del Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia, il Master di secondo livello in Bioetica e Formazione, il Master in Fertilità e Sessualità Coniugale e il Master in Diploma in Pastorale Familiare? A coloro che hanno il professor Melina e il professor Noriega come relatori, verrà garantita la possibilità di portare a termine la tese con gli stessi relatori? Cosa verrà garantito a coloro che si sono già iscritti ai corsi e seminari tenuti dal professor Melina e il professor Noriega? Sebbene la cattedra o le cattedre del professor Melina e Noriega sono state eliminate, c'è il corso Teologia Morale dell'Amore della Famiglia. Perché i due docenti non possono insegnare la teologia in questo corso? L'ordinamento degli studi pubblicati si limita a nominare i corsi con titoli che non dicono molto sul loro contenuto. Chiediamo che vengano pubblicati il contenuto, la bibliografia e i nomi dei professori che dettano ogni corso, perché gli studenti possono discernere in modo informato se vogliono o meno seguire il nuovo piano di studi. Vengono menzionati corsi opzionali, tuttavia non compagnano nemmeno i loro titoli. L'incertezza generata dai cambiamenti è così grande che alcuni studenti vogliono conoscere le modalità di rimborso delle tasse universitarie già versate, nel caso in cui la situazione non fosse chiarita oppure non fosse data una risposta soddisfacente alle richieste degli studenti. I nostri diritti come studenti, l'articolo 89, paragrafo 1, dei nuovi statuti garantisce che gli studenti iscritti nel periodo di vigenza del precedente ordinamento degli studi potranno scegliere di proseguire il percorso formativo in esso previsto, mentre il paragrafo 2 dice i vecchi spiani di studio si estingueranno dopo tre anni dall'approvazione del nuovo ordinamento degli studi. Tuttavia, due professori che insegnano cattedre fondamentali all'interno del vecchio ordinamento sono stati licenziati. In che modo lei come Presidente intende quindi garantire il rispetto degli statuti entrati in vigore e i diritti degli studenti? In questo senso chiediamo che ci sia garantita la continuità di insegnamento per tre anni previsti come periodo di transazione dagli statuti dei professori Melina e Noriega, già nei corsi già approvate per l'anno accademico 2019-2020, sia nel lavoro come relatori. In caso contrario, l'articolo 89 che disciplina la transazione sarebbe violato. Si è garantita almeno nello stesso periodo la continuità di insegnamento di tutti i nostri docenti, finora presenti, sia quelli stabili che quelli incaricati a tempo parziale e pieno. Chiediamo che il professor Iose Granatos venga riconfermato come vicepreside almeno per i prossimi tre anni di transazione, in modo che gli studenti che anche in questo modo possono avere garanzia della continuità delle lungimirante intuizioni fondatrice di San Giovanni Paolo II, e riconfermato da Papa Francesco. Chiediamo inoltre, anche se non è direttamente connesso al nostro piano di studi, di garantire la continuità del lavoro di tutto il personale non docente e amministrativo del nostro istituto, sono anche loro che tutti i giorni, da anni, in uno spirito di famiglia, ci permettono uno studio serio e sereno in clima di accoglienza e unità. Infine vorremmo una volta di più sottolineare che il corpo studentesco ha deciso di rivolgersi a lei, Monsignor Sequeri, sia per la fiducia che è finora sempre riposto in lei come uomo di comprovata reputazione accademica, sia per la sua funzione di preside e quindi garante della continuità dell'eredità dell'Istituto Giovanni Paolo II e garante dei delitti degli studenti. Saremmo gradi se ci porrà una risposta esauriente e davvero tempestiva a quanto richieste in questa lettera al fine di decidere e organizzare di conseguenza il nostro futuro accademico e personale, in accordo anche, ove necessario, con i nostri superiori e responsabili. La ringraziamo per la sua attenzione, Dio la benedica e San Giovanni Paolo II dirifica i suoi passi. Un appello molto lungo, ma fa comprendere la situazione che c'è grave, fratelli e sorelle, ma guardate che non è una semplice cosa, questi studenti hanno tutte le loro ragioni, ma non per i diritti solo, fratelli e sorelle come studenti, ma hanno ragione, cari fratelli e sorelle, anche da un punto di vista della morale, perché non è possibile che si cambia una cosa quando è stata accettata fino ad oggi, fratelli e sorelle, una cosa incredibile. Ve l'ho detto, stiamo alla fine dei tempi e questo deve accadere, e questo sta accadendo, fratelli e sorelle. Dio vi benedica, sia lotato Gesù Cristo, Ave Maria e Santa Giornata a tutti voi.